Buongiorno a tutti, buongiorno di nuovo, bentrovati e buona giornata qui da Massi Vapers, oggi volevo parlarvi di un'azienda di nuovo interamente italiana, perché io parlo solo di aziende italiana al momento, l'azienda in questione è la Tornado Juice, il liquido in questione è la Donna Barbuta, vi arriva, io non lo so come vi arriva, comunque io ce l'ho così, l'ho preso in fiera e credo che sia il liquido finale sia così comunque in ogni caso, devo dire già da subito che io l'ho già svappato, l'ho già assaggiato, l'ho già testato, è già una settimana che lo svapo e dico la verità, come tutti i liquidi della Tornado Juice, anche questo mi è piaciuto, mi è piaciuto e lo consiglio a un pubblico che gli piace il dolce, poi vi vi dico il perché, comunque dai, vi arriva in questa confezione molto carina, non so se vi lascio a farvela vedere bene, comunque dentro c'è il liquido, molto bello, 30 ml, io ce l'ho a nicotina 3, facciamo una prova olfattiva del liquido, mi piace anche perché è molto, vediamo se riesco a farvelo vedere, magari così, ok, non è molto denso come liquido, perciò diciamo e molto, alla fine diventa molto fumoso, poi alla fine, come piacciono poi a me, sono i liquidi fumosi, mi piacciono, comunque, alla prova olfattiva si sente latte e menta e fino a qua non ci piove, a, la prova di svapo è in realtà è latte e menta, io a parer mio non lo so, non ho letto niente, non mi sono informato, non so niente a riguardo del liquido, l'ho solo testato come si può vedere, non so se riesco a farvelo vedere, praticamente allo svapo, quando lo aspiri sa di latte, quando lo butti fuori ti lascia quel retro gusto di menta, comunque molto buono, ho già detto tutto del liquido, ma facciamo una svapata così almeno vi faccio vedere la fumosità e le realtà del liquido, io lo sto svapando sul Griffin, su un Evic VTC Mini, resistenza a 0,20 e sono a 30 watt, diciamo che vapore comunque ne fa, ed è molto anche buono, lo ricordo, liquido, donna barbuta, latte e menta, io credo che in fiera ne siano usciti 6 di questi liquidi qua, io ho solo questo, perciò parlo solo di questo, quando comprerò gli altri parlerò anche degli altri, al momento ho solo questo e parlo di questo. e con questo vi ringrazio e seguiteci sul canale YouTube alla pagina di Massive Hapers e sul gruppo svapatori italiani. Buona giornata a tutti quanti, svapate, ma non tanto, svapate con moderazione, ma non si può dire svapate con moderazione, svapate, l'importante è che svapate. Ciao ciao! Ciao!